Roberta Valtorta, anche lei ha un curriculum naturalmente che conoscete notevolissimo, si occupa di fotografia dal 1976, dovresti andare fino laggiù o dove vuoi se non hai proiezioni. Insegna storia della fotografia da tanti anni anche presso la scuola umanitaria, è stata docente di storia tecnica della fotografia presso diverse università, da Udine al corso poi del master di alta formazione sull'immagine contemporanea della Fondazione Fotografia di Modena e naturalmente dal 2005 al 2015 direttore scientifico del Museo di Fotografia Contemporanea. Il numerevole delle pubblicazioni e le curatele dimostra l'ultima, se non ricordo male, quella dedicata a Pietro Donzelli e a Rovigo nel 2017. Roberta, il titolo è La fotografia tra Milano e Torino, racconto del sociale in attesa dell'arte. Prego. Grazie. Grazie per avermi invitato a dare un contributo a questa giornata. Devo dire che dopo l'intervento di Piero Scaramucci mi sembra di parlare di poca cosa. Io ero presente quel giorno a quei funerali, ero anche presente alla grande manifestazione del giorno dopo, del sabato, con un'influenza terribile che coincideva con la febbre. Grazie per questo intervento importante. Io racconterò cose, diciamo, meno importanti. Allora, per questa occasione ho pensato di riprendere alcune relazioni che avevo fatto in un mio saggio alcuni anni fa. Un saggio pubblicato in un catalogo del Moderna Museet di Stoccolma, che era cura di Luca Massimo Barbero. E si trattava dell'arte tra Milano e Torino tra il 58 e il 68. Dunque, diciamo, grossomodo, anni 60. Ed ero stata richiesta di descrivere lo stato della fotografia nelle due città in quegli anni. Quindi ho pensato che poteva essere interessante riguardare, riprenderlo, modificato, tagliato. Allora, risultava evidente dalle ricerche, ma si sapeva insomma, che il decennio vedeva una netta prevalenza del racconto del sociale con un leggero primo affacciarsi di alcune ricerche di tono coscientemente artistico, diciamo, quindi segnate da un'intenzionalità artistica. Il periodo tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60 segna infatti per la fotografia italiana un momento di vera e propria transizione. Abbiamo da un lato ancora gli ultimi esiti di un dibattito tutto raccolto nei circoli fotoamatoriali nati nel dopoguerra e divaricatosi a causa della forte influenza dell'idea crociana di arte tra formalismo e astrazione da un lato e intresse verso l'indagine sociale dall'altro. Avevamo poi lo sviluppo, iniziato fin dagli anni 30, dei linguaggi del fotogiornalismo che, diciamo, giungeva a maturazione con gli anni 70 ancora di più per poi entrare in crisi con gli anni 80. Dall'altro lato ancora abbiamo, come dicevo, un timido affacciarsi di nuove cosiddette sperimentazioni più vicine ai linguaggi dell'arte contemporanea, che però avrebbero trovato significato e sviluppo solo negli anni 70 e non nei 60 appunto di cui parliamo. Se guardiamo in particolare alla situazione a Milano e a Torino, cioè le due città più industrializzate e dunque più moderne e ideologicamente più vicine alla caratteristica meccanicità della fotografia, è subito interessante sottolineare che la fotografia nelle due città, che pure sono la guida del paese per quanto riguarda l'arte contemporanea, naturalmente fatta eccezione per l'incidenza della Biennale di Venezia, si attesta sostanzialmente sulla pratica del reportage, con rare eccezioni premonitrici. Torino era stata, nell'Ottocento e fino agli anni 30 del Novecento, la città guida per la fotografia italiana. Qui erano nate le prime associazioni fotografiche e nel 1898 si era svolto il primo congresso fotografico nazionale organizzato dalla Società Fotografica Italiana e nell'ambito della prima esposizione internazionale ed arte decorativa moderna del 1902, l'esposizione già stata internazionale di fotografia artistica. Qui, a Torino, si pubblicò dal 1904 al 17 la fotografia artistica e dal 24 al 63 il Corriere Fotografico, rivista che fino al 34 aveva anche pubblicato, Lucia e Ombre, importante annuario della fotografia artistica italiana, ma anche, a partire dal 33, la rivista Galleria. Nel 49 era poi uscito l'importante messaggio della Camera Oscura di Carlo Mollino, un'opera di grande rilevanza per il rinnovamento della cultura fotografica in Italia. Con gli anni 30, però, tutto il dibattito si era spostato a Milano, dove nel 33 era stata trasferita da Monza all'Adriennale. Sulle pagine di Cinema, Domus, Casabella, Giuseppe Pagano, Gio Ponti e Edoardo Persico discutevano sul rapporto tra pittura, cinema, architettura e fotografia. Negli anni 40, Albe Steiner, Bruno Munari, Franco Grignani e Luigi Veronesi contribuivano alla definizione della autonomia della fotografia come arte. Nel 41, Alberto Lattuada aveva pubblicato il libro Occhio Quadrato. Una raccolta di fotografie basate sull'idea di documento poetico, un'armoniosa combinazione tra mero documento e creazione artistica e, diciamo, una provvisoria risoluzione del conflitto crociano fra arte e documento. Nel 43, poi, l'importante volume Fotografia, prima rassegna delle attività fotografiche in Italia, pubblicato dal gruppo editoriale Domus, aveva fatto il punto sulla situazione. anche grazie a contributi importanti come quelli di Ermanno Scopinici e di Federico Patellani. A partire dal 47 e, per tutti gli anni 50, poi, la rivista Ferrani aveva accolto il dibattito di quegli anni con le voci, fra le altre, di Italo Zani e Alberto Moravia, Pierpaolo Pasolini, Luigi Crocenzi, Paolo Monti. Successivamente, il dibattito si era spostato sulle pagine di Popular Photography Italiana e Fotografia Italiana, tra anni 60 e 70. Sempre a Milano erano nati nel 54 i corsi di fotografia della società umanitaria, fondati su un preciso metodo mediato dalla scuola del Bauhaus e dall'inglese Arts and Crafts. Con gli anni 50, sull'indiretta spinta ideale e sentimentale del neorealismo e grazie anche al fiorire di molti giornali illustrati, da tempo, ripubblicato a partire dal 46, Il Mondo, nato nel 49, Epoca nel 50 e L'Espresso nel 55, e grazie all'attività di alcune agenzie, come Publifoto, Faravola e Gian Colombo, assistiamo a un progressivo affermarsi della fotografia sociale. Senza queste premesse, diciamo, non è possibile capire, diciamo, il peso della fotografia fotogiornalistica negli anni 60. Nel decennio 60, periodo di grandi e contraddittori mutamenti sociali e di veloce sviluppo industriale indotti dal boom economico, e la conseguente immigrazione dal sud al nord del paese e segnatamente a Milano e a Torino, città protagonista del cambiamento, un'arte aperta verso la realtà qual è la fotografia, si sente chiamata un compito di testimonianza e di narrazione come a un destino storico. La tensione verso l'arte sembra calare, resta come sospesa e tutte le energie dei fotografi vengono sostanzialmente assorbite dal racconto del sociale, salvo poche eccezioni. Nel 59 era uscito a Milano un volume importante, Nuova fotografia italiana, dell'importante critico di fotografie di cinema Giuseppe Turoni, il quale aveva rilevato l'importanza del fotogiornalismo, ma aveva anche cercato di individuare altre tendenze della fotografia a lui contemporanea, individuando in particolare Paolo Monti, l'autore più influente, vera guida culturale per la fotografia italiana. Anche un altro volume era uscito, ed era Milano, Italia, di Mario Carrieri, uno dei più bei fotolibri sulla città mai pubblicati, che aveva restituito un ambiente urbano e sociale a forti tinte espressioniste e dense di tensioni. Un lavoro che andava al di là del reportage classico, cogliendo oggetti e figure urbane quasi come sculture. Ma sempre nel 59, quindi mentre aspettiamo gli anni 60, il saggiatore aveva pubblicato l'edizione italiana del mitico fotolibro di Robert Frank, gli americani, uscito in Francia l'anno prima, una ricerca che, responsabile di aver destabilizzato le regole classiche del reportage, gli storici della fotografia pongono alle origini della fotografia contemporanea. E curiosamente questo libro ebbe una immediata edizione italiana. Se consideriamo inoltre che l'almanaco letterario Bonpiani, nel 61, pubblica l'innovativo saggio di Roland Barthes, il messaggio fotografico, il famoso scritto nel quale per la prima volta e gli formula il famoso paradosso bartesiano, cioè la fotografia è un messaggio senza codice e poi indica l'eventualità di un linguaggio fotografico dotato invece di codici, si può dire che gli anni a cavallo fra 50 e 60 vedono eventi editoriali di rilievo. A questo aggiungiamo che il 66 è l'anno dell'uscita in lingua italiana per i tipi di frassinelli della storia della fotografia di Helmut Gersheim, uno dei libri che hanno fondato la storia della fotografia internazionale e piuttosto a lungo l'unico libro di storia della fotografia noto e utilizzato in Italia. Negli anni 60 Antonio Arcari, uno dei più intelligenti critici di fotografia del secondo novecento italiano, docente presso i corsi di fotografia della società umanitaria di cui avrete ampiamente parlato con Mara Campana, contribuisce al dibattito sulle pagine di Photomagazin giudicando fra l'altro come il reportage debba sottrarsi a una logica di tipo meramente cinematografico oppure letterario o pittorico per conquistare un suo specifico. Specifico è il termine che si è a lungo usato per indicare una specialità della logica fotografica, una sua esclusività. E proprio questa rivista organizza nel 59 la Biblioteca Civica di Sesto San Giovanni il primo convegno nazionale di fotografia a cavallo fra fotoamatorismo e professione al quale prendono parte molti studiosi tra i quali il torinese Piero Raccanicchi. Gli atti vengono pubblicati nel 61. L'altro evento rilevante del decennio è datato 67 ed è l'anno dell'apertura in via Brera della galleria Il Diaframma diretta da Lanfranco Colombo direttore anche della rivista Popular Photography che dicevamo in edizione italiana poi diventate Il Diaframma. Prima galleria esclusivamente dedicata alla fotografia in Europa rimarrà per molti anni almeno fino a metà anni Ottanta l'unico luogo di ritrovo e di aggiornamento sulla fotografia in Italia per fotografi appassionati e studiosi. La galleria inaugura con una mostra di Paolo Monti. Questi, inovarese di nascita dopo un periodo veneziano nel 53 si era trasferito a Milano divenendo presto figura di riferimento per la fotografia d'arte sia antica che a lui contemporanea il design l'architettura oltre che per la sua accolta lettura della Milano della ricostruzione e per l'esperimentazione in camera oscura e gli studi sulle forme della natura. L'altra figura protagonista della fotografia milanese del periodo è indubbiamente Ugo Mulas fotografo sociale e narratore della Milano operaia ma poi fotografo di teatro del piccolo teatro a lungo fotografo dell'industria moda e degli artisti da 54 a 72 e fotografo della Biennale di Venezia proprio nel 67 l'anno appunto dell'apertura del diaframma Longanesi pubblica il suo New York arte persone libro importantissimo con un testo di Alan Salomon e il design importante di Michele Provinciali un libro che raccoglie le fotografie che Mulas aveva realizzato nei suoi tre viaggi nel 64 65 67 durante i quali entrò in contatto con i grandi artisti new yorkesi del momento appartenente all'espressionismo astratto e alla pop art fondamentalmente la coscienza di Mulas sviluppa nei riguardi le grandi novità dell'arte degli anni 60 che Mulas sviluppa lo porta successivamente nel 70 72 e poco prima della sua morte avvenuta nel 73 a elaborare le note verifiche indagine dei codici della fotografia di tono concettuale una riflessione uno smontaggio della fotografia stessa se Monti era stato sempre distante dal reportage Mulas proviene da questo per poi orientarsi verso ricerche di tipo diverso ma è in effetti il reportage come si diceva il terreno di lavoro di molti fotografi impegnati a raccontare la città nei suoi temi del lavoro della crescita urbana delle trasformazioni sociali e delle lotte operaie nel 64 Mario De Biasi diventa capo dei servizi fotografici di Epoca e ricordiamo per esempio che Epoca pubblica il 5 maggio 68 un numero speciale interamente dedicato alla fotografia nel 66 nasce l'agenzia Grazia Neri la cui importante attività durerà fino al 2008 i narratori di Milano sono molti da Mario Dondero amico di Mulas a Cesare Colombo da Carla Cerati a Gioffaco Mazzocchi formatosi con Antonio Arcari presso i corsi di fotografia della società umanitaria da Tony Nicolini a Gianni Berengo Gardin a Uliano Lucas a Piero Raffaelli a Enrico Cattaneo a noi più noto per la sua intensa attività di fotografo dell'arte e degli artisti nella quale eccelle da Emilio Frisia a Mario Cattaneo a Silvestre Loconsolo cantore delle lotte operaie dagli anni 50 agli anni 70 al gruppo 66 formato da fotoamatori fortemente impegnati nel sociale quali Ernesto Fantozzi Carlo Cosulic Gualtiero Castagnola ai quali si aggiungono altri sensibili ed evoluti fotoamatori quali Pietro Donzelli Tranquillo Casiraghi Ugo Sovetti Mario Finocchiaro ed è un periodo caldo denso di rivendicazioni tipo sindacale e professionali per i fotoreporter che aspirano al riconoscimento di giornalisti a questo proposito importante fu il convegno organizzato il 17 ottobre 69 presso il Palazzo dell'Arte dal titolo Fotografi giornalisti proposte per la creazione di un organismo rappresentativo dei fotografi giornalisti con Calogero Cascio Nick Giordano Julian Lucas Antonio Sansone Giancarlo Scalfatti Giuseppe Pino e Massimo Vitali tra gli altri anche Ferdinando Scianna e Massimo Vitali tra gli altri quello stesso Massimo Vitali che abbiamo visto proiettato prima ma che a partire dalla metà degli anni 90 ritroveremo nel ruolo di fotografo artista il dibattito che avvenne in quell'ottobre 69 al Palazzo dell'Arte venne poi raccolto nel numero di febbraio 70 di Popular Photography analoghe caratteristiche presenta la situazione torinese del periodo mentre sono ancora attivi i vecchi maestri quali Carlo Molino che prosegue le sue sperimentazioni di sapore erotico surrealista Riccardo Moncalvo l'editore Einaudi offre una serie di fondamentali pubblicazioni che innalzano di tono la fotografia all'interno della cultura degli anni 50-60 ancora una volta è necessario guardare un poco anche al decennio precedente i 50 fra queste ricordiamo in quanto emblematiche il mitico Un Paese del 55 con fotografie del grande fotografo americano Paul Strand e testo di Cesare Davattini che costituisce ormai il simbolo di un dialogo eccezionale fra immagine e parola e poi dieci anni dopo insomma nel 66 la fondamentale traduzione italiana dell'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin il geniale testo che sta alla base ieri come oggi di qualsiasi studio sul senso della fotografia nella civiltà della comunicazione e dell'arte contemporanea e poi nel 69 morire di classe a cura di Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia con fotografie di Gianni Berengo Gardin e Carla Cerati sulla condizione manicomiale un grande classico sul tema e anche una sorta di gioiello editoriale completa e rafforza il lavoro di ammodernamento della cultura fotografica all'uscita nel 68 del libro del critico Renzo Chini personaggio della fotografia troppo dimenticato il libro si intitola Il linguaggio fotografico ed è edito dalla 6 sempre di Torino e in esso Chini sostiene con chiarezza che il naturalismo non è il limite della fotografia come crocianamente si intendeva ancora in quegli anni e ancora negli anni a seguire ma la forza e la specificità del suo linguaggio la scena torinese è anche segnata da due prestigiosi eventi espositivi uno negli anni 50 e uno conseguente al primo negli anni 60 anche se sono a distanza edizione italiana di The Family of Men mitica mostra curata da Idoa Steichen nel 55 al Museum of Modern Art in New York un inno alla fotografia sociale e umanistica ospitata nel 59 a Palazzo Madama successivamente nel decennio successivo nel 65 una personale di Steichen stesso alla Galleria Civica d'Arte Moderna sul fronte dell'arte vi sono artisti attivi come Giulio Paolini e qui citiamo soltanto il suo giovane che guarda Lorenzo Lotto datato 67 e Michelangelo Pistoletto i suoi quadri specchianti che hanno fortemente a che vedere con la fotografia questi artisti a partire dai primi anni 60 utilizzano la fotografia abbiamo poi Giorgio Cham che dalla fine degli anni 60 pone la fotografia al centro assoluto della sua opera con originali elaborazioni finora raramente studiate a Ostano Giorgio Cham si sposta giovanissimo in una torino vivacissima dal punto di vista artistico con le gallerie di Gian Enzo Sperone Christian Stein e con la memorabile performance di Gina Pane da Franz Paludetto fin dai primi momenti della sua carriera Cham intraprende una ricerca ossessiva su se stesso attraverso l'autoritratto un'analisi dell'essere in relazione al tempo e alla memoria accanto a questi artisti fotografi d'arte come Paolo Pellion di Persano e Paolo Moussat Sartor compiono un lavoro assiduo e complesso che non può definirsi né la documentazione delle opere e delle azioni degli artisti ma più correttamente collaborazione e contributo alla loro opera abbiamo infatti ormai escluso l'idea che la fotografia dell'opera d'arte sia solo documentazione a favore dell'idea che essa sia partecipe dell'opera stessa specie quando questa è opera comportamentale performance dunque o opera ambientale in quegli anni la città di Torino cresce sul lavoro operaio e intorno alla Fiat e sui grandi temi sociali in primis le lotte operaie l'occupazione delle fabbriche e delle università fiorisce come a Milano il reportage lo animano autori come Ugo Liprandi Giovanni Perno Mauro Raffini Mauro Vallinotto del quale ricordiamo una ricerca del 68 sullo spedale psichiatrico di Collegno i quali insieme ad altri fotografi anche collaboratori della stampa come Piero De Marchis Paolo Agosti Enrico De Angelis Sergio Solavagione Cesare Alessandro Bosio alcuni cresciuti alla scuola di Aldo Moisio esponente del reportage degli anni 50 si organizzano nel 69 nel gruppo fotoreporter piemontesi insomma per concludere questo breve contributo nell'insieme sia a Milano che a Torino si registrano dunque indubbiamente uscite editoriali di rilievo che avrebbero pesato anche nei decenni successivi la presenza di alcuni importanti fotografi attivi nella documentazione dell'arte e degli artisti stessi ma soprattutto il vivace lavoro di numerosi reporter è un vero e proprio periodo di mezzo la fotografia come ricerca artistica si sta solo affacciando e infatti solo con gli anni 70 la fotografia nelle due città e più in generale in Italia svilupperà un dialogo più proficuo con il mondo dell'arte un dialogo che getterà le basi per la sua successiva emancipazione come forma autonomo d'arte avvenuta solo tra anni 80 e 90 grazie 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 grazie